Oh vaffanculo Ora ragazzi si vede malissimo Perché noi non abbiamo Testo il pack E altre cose del genere Però ragazzi sta diventando No è bellissima Secondo me è troppo alto Guardate è bello ragazzi Il nostro salone delle missioni Qui l'altra volta ci siamo dimenticati una cosa C'è appunto il faro Che c'era il libretto dentro C'era scritto ripara il faro l'abbiamo fatto Craft a compass L'abbiamo fatto c'è la bussola E poi fare la mappa dell'isola Eh ragazzi quella bisogna farla Dov'è che l'hai messa tutte le mappe te? Nella cesta con scritto mappe Ok Comunque ragazzi poi faremo tutto il muro gigantesco Di tutta ma tutta l'isola Però in casa la facciamo quella Infatti stavo cercando l'agilla Perché voglio fare Va bene però ora ragazzi facciamo una cosa Diversa cioè Andiamo dalla Guarda c'è sempre il mio coniglietto Sì sì vai 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 un attimo avanti ci penso io Passa? Sì sì Tranquilla eh Tranquilla Come dicevo ragazzi andiamo Alla barca che abbiamo lasciato Diciamo il sospetto Nooo Mi sono dimenticato una cosa La grave La grave La grave La grave Il pokémon Mi sono sospettato il pokémon Grave Andrebbe bene anche la sabbia Eh ma non abbiamo nemmeno quella Abbiamo più grave Ok Ragazzi Ci siamo un attimo fermati Perché Ilari ha trovato una cosa Vi ricordate L'indizio del Oddio un altro zombie Che cavolo L'uccido io Comunque C'era scritto C'era scritto Sull'indizio del tesoro Del capitano Flint Di trovare L'albero A forma Di Y E questo Mi sa che è davvero A forma di Y Come dicevo Dovevamo salire E vedere la stella Si Si guarda se c'è un albero luminoso Si guarda se c'è un albero luminoso Lì ce l'abbiamo messa noi la luce Si Eh ragazzi Sarà un po' più dura del previsto Ti ricorda l'inizio inizio inizio serio C'era della luce Eh però non era niente Ti hai trovato qualcosa? Cioè ce l'avevamo andati? Si Ok ragazzi Ho messo paura Ragazzi Eh si perché faccio paura Guarda Ok ragazzi Tagliamo un attimo il video Ah forse quella là giù La collina è più alta Guarda un po' Vedi che c'è qualcosa Ed erano quelli Gli alberi scuri E poi soprattutto Non è quello Il vulcano eh No non è il vulcano Un'altra cosa È l'altra montagna Si È una collina Nella spiaggia esterna C'è Rivia Ah era anche vicino a casa nostra Boh vabbè Ok ragazzi No Eh ci vediamo tra poco Andiamo un attimo a vedere qui giù Se troviamo l'indizio Così per fare presto Ma intanto cerchiamo e basta Ci vediamo tra poco Ciao Ok ragazzi Non abbiamo trovato niente Abbiamo disboscato tipo tutto il bosco Poi vedrete negli altri episodi Vi facciamo vedere Ma ancora niente Quindi andiamo Ci stiamo anche bagnando Sì ci stiamo bagnando Però con un bellissimo schiocco Delle dita Andiamo Alla barca Ciao a dopo Siamo arrivati Signori Ecco la barca Laggiù Quindi noi ora cosa facciamo Chi è la Cobblestone? Yes Facciamo così Ah vabbè Te la faccio mettere Direttamente da sopra l'albero Piazzavi un blocco qua? Piano piano arrivo Bravo Ma dov'è? Qui Dove sei che? Vado Vado Vado? Vediamo se questo metodo funziona Oh Scusa Cosa vuoi fare? Eh così La faccio qui dove sono io? Sì Allora guardate ragazzi Cosa fa Ilaria Io spacco sotto Aspetta Sì 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 Ilaria ora mette tutta questa Spero che basti Non so se ne ha presa abbastanza Sì credi sì Basta vado Pronti? Vai Io spacco sotto Ma così cazzo E questa qua casca tutta Oddio Mamma mia mamma mia Sono rimasta con un cuore Mi la vai su velocemente anche Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Otto Nove Dieci 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 No ti voglio Devo uccidere No no Tranquillo Non so se no Ok Ancora devi mettere le scalette Ora noi andremo a mettere queste bellissime scalette sotto Innanzitutto mettiamo una cosa qui E andiamo a mettere le scalette sotto così E piano piano andiamo giù Eccoci qua sopra la nave Ma guardate un po' Siamo sopra la navina Io qui rompo un po' di legna Possiamo respirare così Ragazzi Io non so come ho fatto Ho rotto un legna A caso sono arrivato nella stiva Venite a vedere Buon applauso Dove devo venire? Ma se te non mi segui Ok è arrivata anche l'aria Non so come ho fatto a trovarlo Oddio Ma no davvero non so come ho fatto a trovarlo Cioè Questa era davvero chiusa bene Ok Direi di prendere tutto Eh sì eh Cosa dice il libro? Te leggi cosa dice Questa era una trecola Non credo Me for Philip IV of Spain Manifest Palette of Cold War Per due Palette of your Mars Per due Vabbè Il regalo di Philip IV Ritorniamo a casa perché abbiamo preso un'altra nave Abbiamo trovato un'altra nave E portiamo a casa il tesoro Via A dopo Ok ragazzi Eccoci Nave numero due Vieni io metto il libro Vai metti E ragazzi Ci sono anche questi Non so se ti entreranno tutti Non li possiamo fare Perché? Perché Perché non è doppia Non è doppia Vabbè faccio così Ma non ti sentono lo stesso? No Anzi no Aspetta Modificalo no? Quanti lingotti di ferro Uno, due, tre Uno, due, tre E E uno, due E tre Questo ci metto sopra E Ah ecco Vedi erano due d'oro E eccolo qua Vai fai vedere Questo ragazzi È il Il regalo del re Della seconda nave Quindi Questa è fatta Vi abbiamo fatto vedere Com'è venuto bello Davvero Questo Questo bellissimo salone E Abbiamo Nave numero uno Fatta Nave numero due Fatta E manca La tre Ah già Devo prendere cartelle Aspettate che arrivo subito Intanto Ila Te intrattieni Così Poi Ila Cosa? Vedi come sono Intrattenere bene No racconta quella Racconta quella Che mi hai raccontato L'altra volta Sì Sì Come sei È una burlona Ilaria Insomma Avete sentito Le barzellette Di Ilaria Se volete Ancora altre barzellette Ditecelo Fatto Scusa Le barzellette Ci pensano già Gli altri Fatto Seconda Bravo bravo Io vado a farmi Gli affari miei però E Basta Ah già Qui non ho messo Cosa bisogna fare Allora Qui si scrive Trova Come si chiamano Cosa Non so Ricordo Stai parlando Cioè Quello del regalo Per il re Cosa diceva Trova Le quattro navi E Recupera Il tesoro Nella Stiva Ok Scritto Perfetto Non ce l'ho già scritto No Non ce l'ho scritto Comunque ragazzi avete visto che questa nave Tipo Ce l'avete visto L'ho trovato a caso il tesoro Perché L'altra volta la nave Nella stiva era aperta Cioè era Ci si poteva entrare tranquillamente Invece questa qua ho dovuto spaccare Un legno Quindi Mi sa che alcune navi Saranno molto più difficili Andremo a cercare Andremo a cercare L'indizio numero 2 Del tesoro del capitano Flint Quello dell'albero della Y Esatto E diciamo che Faremo anche altre No Le altre Achievement Le altre missioni Con calma Tanto Cioè sono cose Con calma Sì Cioè siamo già a un buon punto Cioè alcune cose si possono fare Ma Cioè non c'è fretta Quindi Ah qui abbiamo trovato un disco L'abbiamo messo dentro Quindi vuol dire che bisogna trovare Undici dischi Non so dove siano tutti Vabbè Saranno a giro per l'isola E Niente Detto questo Ci vediamo Mentre Ila scava Sì Per fare la casa Nel prossimo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Da Mino e Mina Di Mavic Channel Linea Allo studio Ciao ciao